Buongiorno cari amici di Belli Dentro Belli Fuori, non staccatevi dallo schermo, a maggior ragione questa volta perché parliamo di un argomento che sicuramente vi avrà coinvolti almeno una volta nella vita, l'insonnia, la mancanza di sonno e ne parliamo con Piero Barbanti, neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Roma, non Milano come tutti pensano. Allora Piero, l'insonnia innanzitutto che cos'è, quando è che dobbiamo definirla tale? Ma in realtà l'insonnia non è esattamente il dormire poco, l'insonnia può essere anche il dormire male e una notte trascorsa male l'hanno provata il 50% degli italiani, tra il 6 e il 10% questa brutta esperienza la tengono almeno tre volte a settimana da almeno tre mesi e per spiegare a chi ci sta in questo momento vedendo quando sospettare l'insonnia, io dico di tenere a bada il numero 30. 30 minuti per addormentarvi? Mi sveglio nel corso della notte e sto a sveglio per 30 minuti? O mi sveglio 30 minuti prima della sveglia? Allora lì potrei essere un'insonnia. Quindi dobbiamo avere l'orologio sempre pronto, praticamente controllare dei minuti che passano. Questo può essere un po' una sfida perché in realtà l'insonnia tende un po' a fare la gara con l'orologio ed è un difetto, però insomma avere qualche giorno in cui si fatica un po' a dormire non configura l'insonnia, però il sonno va venerato, ecco non va rispettato, va veramente venerato. Comunque tu dici 30, 30 minuti per addormentarsi sono troppi, devo correre ai ripari? Beh bisogna intanto chiedersi come sei condotta la giornata perché spesso quando noi non dormiamo crediamo che il problema sia la malattia della notte, no in realtà è la malattia del giorno perché la principale causa di insonnia è la iperveglia, l'essere troppo lettrizzati, troppo presi dalle cose che abbiamo fatto nel corso della giornata, fare sport alla sera oppure avere delle cattive abitudini tipo quello di guardare purtroppo il cellulare prima di dormire e allora ecco facciamoci un esame di coscienza sulla nostra giornata fino al momento del pigiama perché dopo entra in campo il nostro portiere di notte che si sembra nervoso parassimpatico, quello che ci fa abbassare la frequenza cardiaca, la temperatura e dovrebbe portarci alla buonanotte. È lui che dovremmo tenere come amico principale, ma quando è che dobbiamo ricorrere a qualcosa che ci aiuti ad addormentarci dolcemente? Beh, la domanda è proprio importante perché molte persone guardano, diciamo prima, il cronometro, dipende da come mi sento la mattina. Se io la mattina mi sveglio, posso aver dormito anche otto ore o addirittura meno e mi sento stanco, quindi se io porto nel giorno seguente le ripercussioni negative della mia notte, allora sì, devo correre ai ripari. Dottore, io quando non riesco a dormire, non so, si instaura forse un meccanismo nervoso, adesso me lo potrà confermare lei, più non dormo, più ti agiti, più mi agito e più non riesco a dormire, più mi impongo di voler dormire e più non riesco a dormire. Che cosa succede? Uno tende ad alzarsi dal letto a fare cose per distrarsi, invece che dobbiamo fare? Allora, ci sono delle regole piuttosto, sembrano quasi crudeli, se noi nel corso della notte ci alziamo e siamo sveglio, se no se siamo svegli da circa 20 minuti basta, quella notte è partita, facciamo altro, dormiremo la notte successiva. È questa teoria della restrizione del sonno, perché altrimenti veramente la notte diventa un tormento, guardo l'orologio, incomincio a pensare cosa ne sarà domani, avrò l'occhiaio, non sarò sveglio abbastanza. Mi alzo, giro per casa, torno a letto, poi vedo che non riesco a dormire ancora, allora faccio un altro giro. Ci sono dei trucchi però anche di tipo fisico, termico, le stanze devono essere fredde, mi permetto di dire fredde e non fresche, 18 gradi, ma per quale motivo? Proprio per questo benedetto portiere di notte, il sembroso parassimpatico, che abbassa tutto, abbassa anche la nostra temperatura. Dobbiamo avere quindi un ambiente esterno che non ci riscaldi troppo. Senti Piero, però nell'enfasi delle tante domande che vorremmo porgerti, non hai risposto, non ti abbiamo lasciato rispondere a quella importante. Quando è che dobbiamo ricorrere a goccine? Quando è che dobbiamo capire che il nostro sonno è insano? Beh, diamo qualche numero. Si dovrebbe dormire in genere 7-8 ore, ricordiamo che i ragazzi dovrebbero dormire 9 ore, lo dice la fisiologia, non lo dice il manuale delle buone abitudini, e nei nostri anziani almeno 6 ore. Quindi già se dormiamo meno di quelle ore poniamoci un campanello d'allarme. Attenzione poi, dicevo, se la mattina dopo siamo compromessi, perché poi succedono diverse cose. Chi dorme poco paradossalmente ingrassa, perché si libera molto cortisolo, è più a rischio di pressione alta, di diabete, ed è anche più a rischio di cattive abitudini, perché cosa succede? Ho dormito poco, sono assonnato, prendo molto caffè, e quindi alla notte dopo dormirò ancora peggio. Però, attenzione al fai da te, attenzione alle gocce, sono un grande avversario delle gocce per dormire, perché le gocce… Di qualsiasi genere, anche con quelle cosiddette naturali che trovi al bancone… Con quelle naturali è un altro discorso, ed è anche giusto poter ricorrere a dei metodi che a volte sono anche, forse in parte placebo, comunque rilassanti, la stessa tisana, la camomilla, la valeriana, la melatonina, che ha una sua efficacia. Però ai farmaci, è molto più difficile per noi prendere due pastiglie che prendere qualche goccia in più. E dico questo perché abbiamo tanti pazienti che arrivano con 30-40 gocce di ipnotici. Cioè, quindi tu sei contrario alle goccine, nel senso proprio le gocce, non come farmaco sonnifero che induce il sonno, ma proprio alla formulazione. Non è che io sia esattamente contrario, dico però che con le gocce l'insonne preoccupato della propria insonnia tende più spesso ad abusare. Perché ci vai, cosa vuoi, stasera aggiungo due gocce in più. Invece il peccato di prendere una doppia pastiglia lo si avverte maggiormente. Dottore, noi come ci dobbiamo comportare invece con i nostri figli di fronte a questo problema? Perché io ho mia figlia che ha 11 anni ed ha difficoltà ad addormentarsi. Allora, i dati dei ragazzi e dei bambini sono sconvolgenti. Cominciamo a dire che fino a una certa età il bambino dorme poco perché il sonno è un meccanismo attivo. Durante il sonno il cervello lavora a mille e per questo non è ancora bravo a lavorare quando si è piccolo. Le statistiche dicono che nell'Occidente il 10% dell'età pediatrica soffre di insonnia, il 20% tra i 16 e i 18 anni. Bisogna ricordare ai ragazzi che il concetto della notte non è un concetto da utilizzare. C'è la sera e c'è il letto. Si devono mollare i cellulari, si devono abbassare le luci perché sono non piccoli adulti, ma sono ragazzi con un cervello in maturazione. È stato dimostrato che la perda di 60 minuti di sonno nei ragazzi riduce drammaticamente le capacità di attenzione. Dovremmo magari puntare sullo sport forse, fargli fare qualche attività fisica in più per agevolare poi il sonno. Lo sport è una cosa interessante perché intanto si stancano, si divertono, negli sport di gruppo socializzano e non stanno attaccati al cellulare. Io dico una cosa, dovremmo riscoprire neurologicamente il valore dell'ozio anche nei ragazzi. La noia, perché in quel momento il cervello è totalmente scarico. E comunque anche per loro sport, non notturno, non serale, ma sempre nelle prime ore del pomeriggio diciamo. Ti volevo chiedere, dunque uno dorme male, si dorme male, posso recuperare il giorno? Cioè il sonno diurno equivale a quello notturno in qualità e in quantità? Mai, mai. Chi dice io vado a letto le tre ma dormo otto ore ha una malattia chiamata social jet lag, il jet lag sociale, perché noi dormiamo non perché siamo stanchi, ma abbiamo dei ritmi ormonali che non possiamo prendere per i fondelli. Il sonnellino pomeridiano è estremamente riposante e chi non soffre di insonnia lo può fare con tranquillità, ma è la tomba del soggetto insonno. Perché il sonno è come una molla, deve essere compresso e se io lascio decomprimere la molla al pomeriggio la sera non dorme. Quindi che vuoi dire? Che dopo una notte passata male, insonne, dovremmo cercare il più possibile di evitare il sonnellino pomeridiano e di tirare fino alla sera successiva. Esattamente, mai cedere alla tentazione di riposarti perché la volta dopo tu non dormirei ancora bene. Dottore, lei ha detto che a noi adulti bastano 8-9 ore di sonno, i bambini circa 9-10. Invece, cosa succede a chi dorme poco e si sente comunque riposato? Ci sono sempre le eccezioni. Ci sono davvero persone che con 5 ore riescono ad avere un riposo completo. Però ci sono persone che credono che possano bastare quelle 5 ore e poi sviluppano altri sintomi della giornata. Si tratta di pochi fortunati. Cerchiamo di dormire davvero 7 ore tutti noi. Dottore, un'ultima domanda, poi raggiungo il nostro angolo della nutrizione. Come possiamo aiutare il nostro sonno? Allora, la camera da letto solo per dormire. Nessuna televisione, non è un tinello, non stiamo lì a smangiucchiare tablet e cose del genere. Dicevamo camera da letto fresca. evitare il consumo di caffè dopo le 3 del pomeriggio perché dura fino a 7 ore nel sangue. L'alcol ci stordisce ma non ci fa dormire, tra l'altro ha un effetto diuretico, quindi evitiamolo. Ci farebbe alzare. No, sono elino pomeridiano e poi sono delle cose che sembrano strambe ma sono dimostrate scientificamente. Per esempio, l'inverno un bagno a 41 gradi è una temperatura che apre le porte al portiere di notte, al sistema nervoso parasimpatico e poi evitare tassativamente l'uso delle luci negli occhi, anche il cellulare e, spiace dirlo, siamo in tv, la televisione mentre siamo a letto, perché il fascio di luce va nell'ipotalamo e blocca la secrezione serotonina. Libro sì, perché è una luce indiretta, noi sogniamo, sogniamo occhi aperti, immaginiamo il contenuto del libro e se è noioso ci fa dormire ancora prima. Grazie dottore, grazie. La lascio a Margherita per l'ultima domanda di Rito. Pensa che a me, a proposito di luce negli occhi e non soffro di insonnia, piace vedere il sole che sorge, quindi lascio la finestra spalancata. Anche quello è un'abitudine che può conciliare il sonno, ma ti voglio chiedere, chiudiamo con la suggestione del sogno. Sognare la notte è sempre l'indice di un buon sonno oppure quando non ci svegliamo, non mi ricordo, hai delle immagini confuse che ti restano nella testa, è segno che in effetti hai dormito male? Noi sogniamo sostanzialmente sempre, il problema è che durante la notte il registratore della memoria è spento e noi ricordiamo il sogno solo se ci svegliamo entro 7-8 minuti dalla fase REM. La fase REM è la fase dei movimenti oculari rapidi durante la quale noi sogniamo e durante il sogno parla la parte del cervello che di giorno è zitta, in questo momento noi utilizziamo la parte frontale logica, di notte nel sogno parla la parte occipitale temporale, ricordi e immagini, è affascinante, noi sogniamo però sempre. È veramente affascinante, un'ultimissima domanda perché dobbiamo veramente chiudere, però ti chiedo il sonno perché ha un significato o no? È soltanto una reazione del nostro... No, il significato è molto semplice, il cervello fa la manutenzione e la massaia che messi a letto i bambini pensa se di notte al cervello ricompatte i propri ricordi, fa la sua, dicevo veramente, manutenzione messa a punto e dormire poco vuol dire non consentire al cervello di pensare a sé. Grazie Piero. Grazie Margherita. E buonanotte. Magari, io sono un po' insomma. Magari, io sono un po' insomma.